Ciao a tutti, vediamo 7 segni che è pronto per una relazione seria. Prima di affrontare il tema, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Termasco, del quale trovi il link qua sotto. Ti ricordo inoltre che se vai sulla home page del canale ti puoi abbonare, scegliere tra diversi tipi di abbonamento, dal semplice sostegno fino ai seminari online, a cui potrai iscriverti e partecipare, che faccio mensilmente. Bene, e veniamo al tema. Allora, quando vuoi cercare un uomo, è meglio che trovi subito l'uomo giusto, perché spesso ci si coinvolge, donne si coinvolgono con uomini sbagliati, uomini dai quali non ottengono assolutamente nulla. Invece è importante trovare da subito l'uomo giusto. Ora, come fare a sapere qual è l'uomo giusto? Come fare a trovare l'uomo giusto? Beh, la cosa principale è quella che vanno abbinate, quella che viene chiamata chimica, diciamo così, un po' la personalità, poi in realtà la chimica non esiste, e anche la compatibilità sul piano logico-razionale, quindi emozioni, istinto e logica devono andare d'accordo. Quindi devi trovare l'uomo giusto. È inutile che cerchi l'uomo sbagliato. Allora, quali sono i sette segni che tu puoi vedere quando frequenti un uomo che ti portano a capire che è veramente la persona giusta e che vuole stabilire una relazione stabile, una relazione duratura con te? Allora, il primo segnale è che cerca una connessione, cioè vuole connettersi con te. Non ha la tendenza a rimanere distaccato, a rimanere isolato, cioè non è freddo nella relazione con te, ma cerca a tutti i modi per creare una connessione, per creare un terreno d'incontro, per vederti, per dialogare. Ecco, stabilisce un dialogo, una connessione profonda con te, ci mette impegno nel fare questo. Seconda cosa è un uomo che sa dare, sa darti delle cose materiali, emotive, affettive, e sa anche ricevere, perché è importante dare, ma anche è importante sapere ricevere, quindi sa fare entrambe le cose. Terza cosa, molto, molto importante, ti accetta così come sei, cioè non ti vuole cambiare. Le persone gelose, ad esempio, che ti vogliono cambiare, vogliono dire non devi andare qua, non devi andare là, vogliono interferire nella tua vita, quelle vanno mandate subito a stendere, vanno mandate assolutamente a stendere immediatamente. Le persone che si comportano in modo geloso, che vogliono cambiare la tua vita, che vogliono trasformare la tua vita, vanno mandate a stendere rapidamente. Poi un'altra cosa anche molto importante, un'altra cosa anche molto importante, la quarta cosa è che sa attendere, non è che vuole arrivare subito a conclusioni sessuali, sa aspettare i tuoi tempi. E questo è anche un test molto importante da verificare. Se tu non gliela dai subito e vedi che lui se ne va, vuol dire che non era interessato a te, ma era interessato soltanto a svuotarsi i testicoli, fondamentalmente. Quinta cosa molto importante, sa anche dirti di no, perché, come dire, è il manipolatore covert che dice sempre di sì. Quindi sa dirti di no quando ci sono delle cose che non vanno. Questa è un'altra cosa da verificare, molto importante, che dimostra anche personalità. E poi, sesto punto importante, siccome nelle coppie si litiga sempre, quando si inizia una relazione ci sono motivi di litigio, sa gestire il conflitto senza portarlo alle stelle, senza farlo crescere, perché far crescere normalmente il conflitto poi vuol dire rovinare un rapporto, rovinare una relazione. Settima cosa da non sottovalutare, settimo segnale, è che sa scusarsi quando effettivamente magari ha commesso un errore, ha commesso uno sbaglio, può capitare a tutti e sono i narcisisti che non si scusano mai, che in qualche modo pensano di avere sempre ragione. Ecco, chi si sa scusare invece dimostra di avere, diciamo, di tenere comunque la relazione. Mettere da parte l'orgoglio è importante. Bene, quindi ripeto brevemente questi sette segnali. Cerca connessione, sa dare e sa ricevere, ti accetta così come sei, sa attendere la sessualità, non corre dietro e aspetta se tu non gliela dai subito, sa dire di no quando è il momento, è in grado di gestire i conflitti e non lasciarsi prendere da rabbia e rancorre i sentimenti, e sa scusarsi quando è necessario. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Taramasco, di cui farò il link che lo trovi qua sotto. Ci sono dei video, secondo me, molto interessanti sulla sessualità e anche su altre cose, sulla crescita personale, sia in amore, sia da un punto di vista anche proprio della persona, della sessualità, delle emozioni, crescere emotivamente, e quindi ti puoi iscrivervi qua sotto. E poi se vai sulla home page, trovi la possibilità, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti puoi abbonare, scegliendo, ho il semplice sostegno da 0,99, diciamo così, arrivando fino all'abbonamento per i seminari online che faccio tutti i mesi. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!